Quest'anno il Natale sarà diverso dai precedenti, ridimensionato e più intimistico. L'emergenza che ormai da mesi coinvolge tutto il mondo sta influenzando anche le consuetudini del momento. Persino il presepe allestito quest'anno in Chiesa Madre porta i segni del tempo, tra un barcone con a bordo migranti e un ospedale con tanto di ambulanza. Un Natale storico, commenta ai nostri microfoni l'arciprete di Sciacca, padre Giuseppe Marciante. Questo è un Natale particolare, un Natale storico. L'anno scorso non abbiamo vissuto questi sentimenti, questi momenti, perché tutto è iniziato dopo il Carnevale. Ecco perché noi, grazie ai giovani dell'azione cattolica, abbiamo voluto esprimere i nostri sentimenti di cristiani anche in questo segno visibile del presepe. Vedete che c'è la presenza dell'ospedale, il centro Covid, ma c'è anche la presenza della Vara della Madonna. A cui vede abbiamo messo tutto il mondo. È un Natale particolare, ma la fede ci dà una grande luce di speranza. Abbiamo vissuto il tempo di preparazione del Natale con le luci delle varie domeniche. La luce del vengliare, la luce del preparare, la luce del testimoniare, la luce dell'accogliere. Naturalmente tutte queste tematiche dell'Avvento adesso ci preparano a vivere, non dico la notte di Natale, perché purtroppo non la possiamo fare, la notte, ma a vivere la nascita di Gesù. A vivere questo dono straordinario dell'amore di Dio per noi. Il Natale per noi cristiani non è il Natale del rumore, del chiasso o del consumismo, ma è il Natale dell'accoglienza e quindi anche in tempo di Covid lo spirito della festa del Natale è fortemente sentito. Abbiamo bisogno di Dio. Cambiano infatti gli orari delle celebrazioni eucaristiche. La tradizionale messa della Vigilia di Natale si terrà oggi alle 18 alla Chiesa di San Domenico, in Chiesa Madre invece alle 19.30. Le sante messe di domani saranno alle ore 8, 11 e 19 alla Matrice, alle ore 17.30 alla Chiesa del Collegio. Quest'anno, ha aggiunto l'arciprete rivolgendosi in particolare a chi passerà le feste lontano dai propri cari, sarà davvero Gesù il protagonista del Natale. Certamente dal punto di vista familiare è un Natale molto diverso, non ci sarà quella possibilità di essere nelle famiglie riunite per fare una bella cena di festa, di gioia, però, cari amici, dobbiamo anche riscoprire il grande valore del Natale. I pastori erano pochi, i maici erano tre, quindi il concetto della moltitudine è certamente un concetto sociologico, ma la moltitudine è questa Assemblea di Chiesa, questa Assemblea di Popolo di Dio, che nelle varie messe, tante sono le messe che abbiamo messo appunto per permettere a tutti la gioia di pregare, la gioia di accogliere il mistero dell'amore di Dio. Io ho paura che in questi tempi passati ci siamo più preoccupati del rumore, della festa come festa esteriore, che è giusta, che è bella, ma forse la festa del Natale negli anni passati è mancato il protagonista. Il protagonista della festa non è tutti i miei familiari, ma è principalmente il Gesù. Io mi auguro che il Covid, che è una terribile esperienza che stiamo vivendo, ci aiuta a riscoprire grandi valori, sia familiari, ma principalmente i valori religiosi, perché il Natale non è la festa del consumismo, ma è la festa della povertà. Ed è molto bello che proprio a Natale ognuno di noi guardi gli altri. E quindi, siccome gli altri hanno bisogno di tenerezza, posto a Natale dobbiamo riscoprire questo grande valore, accogliere gli altri, andare verso gli altri, i poveri, gli emarginati. E penso in maniera particolare in questo tempo di Covid agli anziani, alle case di cura, questi fratelli e sorelle che vivono isolati, possiamo dire, senza il contatto con la figlia, con il figlio, senza stringersi le mani. E questo è il dramma di questo Covid, che certamente farà vivere il Natale a questi poveri, a questi anziani ricoverati in una grande solitudine. E la speranza è Gesù, questo Dio Emanuele che viene per salvarci. Allora dico a tutti, apriamo le porte a Cristo, per citare una frase di San Giovanni Paolo II. Apriamo le porte a Cristo, apriamo le nostre case alla venuta del Natale, di Gesù, mettiamoci davanti a presepe questa notte e cantiamo, qualsiasi canto natalizio, questo Dio che scende in mezzo a noi, accogliamolo. Apriamo il cuore, apriamo la nostra vita e il Signore ci porterà tutto quello che ci manca, ma principalmente la gioia di vivere e di superare questo momento difficile di Covid. Buon Natale a tutti. Grazie.